Ben ritrovati da Francesco Amodeo a questa nuova puntata di Fuori dalla Matrix. L'Italia è ufficialmente uscita dal memorandum sulla via della Seta che aveva siglato nel 2019. È giusto? È sbagliato? In questa trasmissione non entreremo nel merito economico o politico di quel provvedimento. Qui non facciamo politica, raccontiamo però la verità dietro i giochi di potere. Io potrei essere il primo ad auspicare che l'Italia si tenga ben lontana dalla Cina. Quello che andremo a contestare invece sono le modalità. Dimostreremo infatti che non è stata una decisione autonoma, è stata una imposizione, una scelta etero diretta dagli apparati USA che muovono le fila dei nostri governi che per realizzare questo specifico punto della loro agenda hanno portato a termine tutta una serie di operazioni contro la sovranità del nostro Paese per arrivare a quello che oggi sembra invece frutto di una scelta autonoma del governo Meloni. In una mia inchiesta pubblicata nel 2019 dal titolo 31 coincidenze sul coronavirus e sulla nuova guerra fredda USA-Cina, io infatti anticipavo con un reportage fotografico che prima o poi, quindi nel corso degli anni a seguire, gli americani avrebbero trovato il modo per imporre un governo transatlantico dando un ruolo predominante a Giorgetti proprio per arrivare alla chiusura degli accordi sulla via della seta e non solo, come adesso scopriremo in questa puntata. Ripercorriamo insieme quel reportage e scopriamo su quale base io feci quella previsione che oggi si è dimostrata puntuale. Dobbiamo fare un salto indietro nel 2019 quando sulla scrivania del Presidente degli Stati Uniti d'America c'erano principalmente due dossier che riguardavano l'Europa ma soprattutto l'Italia. Quello della via della seta e quello della scelta delle infrastrutture per il 5G. L'Italia era infatti chiamata ad una scelta di campo tra USA e Cina. L'ideale, inutile dirlo per noi, sarebbe stato quello di rimanere neutrale e di valutare di volta in volta in quale accordo andasse meglio per l'interesse nazionale. Ma questo all'Italia non era consentito, questo all'Italia non è mai stato consentito dal dopoguerra fino ad oggi. La scelta ancora una volta per noi era una scelta obbligata. Avremmo dovuto semplicemente fare gli interessi USA con le buone o con le cattive, con o contro gli interessi nazionali. Perché questo dossier risultava così importante? Lo leggiamo in questo articolo dell'Agi. Perché il nuovo ordine mondiale era creato dalla guerra al 5G. Quella che leggete non è una frase tratta da qualche blog complottista ma un titolo pensato da una delle principali agenzie di stampa italiane, una delle più autolivoli e meno inclini alla dietrologia. Quindi parliamo di un articolo dell'ottobre del 2019. Ma di che guerra si parla? Facendo addirittura riferimento ad un cambio di paradigma negli assetti geopolitici mondiali. Cosa sta succedendo? Il mondo occidentale, in particolare gli Stati Uniti, vittime dell'arroganza del potere, hanno sottovalutato in tutti questi anni il cambiamento che stava avvenendo in Cina, che nel frattempo si è trasformata in una superpotenza capace di sorpassare addirittura gli Stati Uniti, sia dal punto di vista tecnologico che dal punto di vista della leadership nello scacchiere geopolitico mondiale. Il risveglio da parte degli Stati Uniti è stato traumatico. La sveglia è suonata per loro troppo tardi, anche perché intanto la Cina annunciava pubblicamente in questo documento che vediamo di essere pronta a superare gli Stati Uniti nel 2025. Quando gli americani si sono resi conto che la nuova rivoluzione tecnologica favorita proprio dal 5G non stava avvenendo nella loro Silicon Valley, ma sull'altra sponda del Pacifico, hanno subito un vero e proprio shock, come adesso vedremo, ed hanno chiamato tutta l'Europa sugli attenti, trovando in Italia in quel periodo un governo stranamente disobbediente. Attenzione però, non disobbediente in quanto sovrano e indipendente, ma in quanto ambiguo. E ricordate che in geopolitica è più pericolosa una scelta ambigua che una scelta sbagliata. Un governo incapace di prendere una posizione precisa per l'interesse nazionale, perché i due partiti di governo, Lega e 5 Stelle, avevano come unica priorità quella di provare ad ostacolarsi a vicenda, non di cooperare per guidare il Paese. Nasce, lo vediamo, al Mise la Task Force China, ossia un completo programma di cooperazione esclusivo tra i due Paesi. Siamo nel novembre 2018, quando Di Maio vola in Cina dopo esserci già stato a settembre. Gli USA intimano all'Italia però di non firmare l'accordo sulla via della seta. Vediamo questo appello del consigliere di Trump, che dice categoricamente l'Italia non legittimi la via della seta. I 5 Stelle decidono di proseguire. La Lega è titubante e chiede un approfondimento, ma il 21 marzo del 2019 arriva il presidente cinese a Roma e viene firmato il memorandum per la via della seta. Il leader leghista Matteo Salvini sceglie di non partecipare e se ne va al forum di confcommercio. Ha testimonianza che le due anime di quel governo si stessero ostacolando a vicenda e fossero divise su dossier fondamentali. Gli USA vanno su tutte le furie e ce lo fanno anche sapere senza alcun ritegno. Dimostrano quindi che non siamo sovrani e che non possiamo, nella maniera più assoluta, decidere autonomamente. Guardate addirittura che cosa scrive il Washington Post. Un articolo durissimo dal titolo una ribelle Italia diventa il primo paese del G7 a firmare con la Cina il memorandum sulla via della seta. Nell'articolo fanno sapere che il governo giallo-verde in questo modo sta rompendo le righe con il paese più potente dell'Occidente. Da quel memorandum emerge tra l'altro che la Cassa Depositi e Prestiti sarà autorizzata ad emettere dei panda bond, ossia dei titoli denominati in moneta cinese destinati ad investitori istituzionali cinesi. Questo ovviamente non sarà piaciuto agli Stati Uniti. Che cosa accade allora? E qui dobbiamo fare un altro piccolo passo indietro perché prima che quel memorandum sulla via della seta venisse firmato in Italia, Giorgetti era stato convocato negli Stati Uniti dall'amministrazione Trump. Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio si presenta quindi come garante del governo italiano ed è probabile che avrà assicurato che tutto sarebbe andato secondo le indicazioni di Washington in nome della fedeltà atlantica dell'Italia almeno per quei specifici dossier. Infatti al fine di rassicurare l'amministrazione americana sul ruolo di Huawei nella gara per il 5G perché quello che volevano fare gli americani era ostacolare in tutto e per tutto l'azienda Huawei definita un'azienda al servizio dei cinesi anche al servizio secondo loro dello spionaggio cinesi. Giorgetti infatti torna dall'America con il rafforzamento del decreto chiamato del Golden Power che di fatto viene considerato in quella occasione un vero e proprio decreto anti-Huawei. Questo diciamo è quello che porta Giorgetti in Italia su imposizione degli Stati Uniti ed è lì in quella occasione che nasce l'idea del partito transatlantico ossia un futuro governo in Italia completamente sbilanciato verso gli interessi degli Stati Uniti in cui proprio Giorgetti avesse un ruolo determinante soprattutto nella gestione dei rapporti economici e dei dossier con la Cina. Lo vediamo in queste immagini il 22 maggio del 2019 Giorgetti viene convocato a Milano alla Camera di Commercio Americana in Italia insieme a lui c'è l'ambasciatore italiano a Washington e c'è l'ambasciatore americano a Roma, Eisenberg presenti anche i vertici delle più importanti imprese e partecipate dello Stato italiano nel settore della sicurezza i colossi americani del medesimo settore in quella occasione Giorgetti con la bandiera americana lo abbiamo visto alle spalle intende rassicurare ulteriormente i presenti e per la prima volta farà delle allusioni senza troppi giri di parole a quello che noi in futuro crederemo essere accaduto improvvisamente ossia la possibilità di un cambio di governo qualora i 5 Stelle non avessero rispettato gli accordi sul 5G l'ambasciatore Eisenberg decide di ribadire a Giorgetti anche in quella sede che i dubbi sulle ambiguità italiane in campo geopolitico anzi Eisenberg dirà pubblicamente che la firma del memorandum sulla via della seta ha costituito un grave sbandamento del governo italiano dal punto di vista geopolitico e chiede all'Italia di realinearsi a quelle che sono le posizioni volute dagli Stati Uniti l'11 luglio del 2019 finalmente il Consiglio dei Ministri approva quel decreto legge che mira ad intensificare la vigilanza sui contratti di Huawei per la banda larga e per lo sviluppo delle connessioni 5G Giorgetti e Salvini finalmente tirano un sospiro di sollievo l'amministrazione Trump pure il decreto però dovrà poi essere convertito in legge Di Maio in quei giorni viene convocato dall'ambasciatore americano a Roma in realtà c'era già stato qualche giorno prima con i membri del governo italiano tra cui Salvini in occasione delle celebrazioni dell'indipendenza americana ma qualche settimana dopo viene convocato da solo per una lunga colazione a porte chiuse dove pare che abbia rassicurato l'ambasciatore Eisenberg a proposito della recente firma degli accordi commerciali con Pechino invece lo scenario cambia i 5 Stelle capiscono che la Lega ha fatto accordi con gli USA e pur di ostacolare l'alleato di governo decidono di far saltare il banco dichiarando che quasi certamente quel decreto sul Golden Power voluto fortemente dagli Stati Uniti e promesso da Giorgetti al presidente americano verrà affossato in Senato Vincenzo Sant'Angelo del Movimento 5 Stelle comunicherà addirittura che non c'è più l'intenzione di accelerare sul decreto Golden Power tutto lascia pensare che lo lasceranno decadere raccogliendo quelle che erano state le lamentele proprio di Huawei Italia che aveva definito discriminatorio quel decreto nei loro confronti la questione è talmente seria che il Dipartimento del Commercio USA inserisce subito nella blacklist Huawei Italia ed il suo centro di ricerca di Milano e il segnale di una accelerazione dell'amministrazione Trump contro quelli come l'Italia che hanno ignorato i moniti di Washington sulla protezione delle reti 5G l'ambasciatore americano questa volta non convoca Giorgetti ma piomba addirittura all'improvviso nel suo ufficio non resta allora che provare a forzare una crisi di governo ecco perché Salvini molto probabilmente fu costretto a staccare la spina a quel governo certo di tornare poi al governo rafforzato Conte invece fa qualcosa di clamoroso dato che lui aveva fatto quelle scelte non per l'interesse nazionale lo abbiamo detto ma soltanto al fine di liberarsi della Lega una volta raggiunto il suo obiettivo decide di promettere al presidente americano che lui stesso avrebbe fatto subito quello che gli americani chiedevano di fare ossia applicare il decreto anti-Huawei sul Golden Power con il suo successivo nuovo governo lo vediamo infatti la Repubblica del 5 settembre 2019 titola il Conte Bis riparte richiamando i poteri speciali stessa cosa scrive il Sole 24 Ore il Consiglio dei Ministri debutta con il Golden Power sulle forniture del 5G leggiamo insieme alcune parti di quel articolo uno dei primissimi atti del Conte Bis riunito nel Consiglio dei Ministri riguarda il 5G e le forniture di tecnologie per gli operatori delle telecomunicazioni da parte dei produttori stranieri l'esecutivo mette subito nel mirino gli operatori telefonici per gli accordi presi con società non europee cinesi in primis finalizzati allo sviluppo delle reti in pratica il governo Conte Bis si è affrettato a richiamare come primissimo atto del suo governo proprio quel decreto che i membri stessi del suo vecchio esecutivo avevano minacciato di far decadere eppure erano gli stessi membri dell'esecutivo precedente questa è la prova evidente che ci sia stata una imposizione esterna ma Conte confermerà la sua ambiguità che come dicevo prima è più pericolosa l'ambiguità in geopolitica che l'errore e infatti il Conte 2 finirà di lì a poco infatti se lo leggiamo in questo articolo dell'Agi secondo Trump l'Italia dirà no al 5G di Huawei ma Conte improvvisamente lo smentisce e Patuanelli addirittura dichiarerà che Huawei offre soluzioni e prezzi migliori esplode così la polemica l'Italia finisce nuovamente nel mirino perché finisce nel mirino lo vediamo in questo articolo del Sole 24 ore perché sul 5G come abbiamo detto precedentemente si gioca la partita per il futuro dell'economia globale e quando si tratta di provvedimenti del genere l'Italia non ha alcuna sovranità non ha alcuna libertà di scelta addirittura vediamo che il presidente americano in piena pandemia con tanti problemi che affliggevano il mondo e l'America si dedica al National Strategy to Secure il 5G il programma nazionale per la sicurezza del 5G vengono redatti anche alcuni importanti documenti che ho già riportato nella mia inchiesta nel 2019 come prova fotografica ma adesso li mostro anche a voi uno si chiama proprio course correction cioè gli americani dicono in Europa dobbiamo invertire la rotta di alcuni governi li dobbiamo nuovamente allineare ai nostri interessi perché lo leggiamo nel documento del Dipartimento di Stato americano perché l'Europa deve mettere al primo posto la sicurezza del 5G ma per gli americani sicurezza vuol dire far entrare l'oro e tenere fuori dalla porta i cinesi nel documento course correction si legge le reti 5G costituiranno l'infrastruttura del ventunesimo secolo la Cina sta diventando il principale investitore in infrastrutture digitali in Asia e America Latina e questa crescente impronta digitale è la più grande minaccia a lungo termine dalla quale dipenderà il futuro di Pechino quindi pensate che importanza gli americani danno a questo dossier gli Stati Uniti dicono non dovrebbero resistere e consentire alla Cina di scrivere le regole che regoleranno i settori tecnologici globali nei prossimi decenni in questo memorandum course correction i neocon americani se la prendono anche con Trump dicendo di essere stato troppo accondiscendente nei confronti della Cina e di essere arrivato a questo punto di non ritorno dove adesso serve soltanto una brusca e immediata inversione di rotta ancora scrivono questa è una grande sfida globale gli Stati Uniti dovrebbero renderla un obiettivo prioritario addirittura lo leggiamo in questo articolo dell'ANSA secondo gli Stati Uniti Huawei sarebbe addirittura una minaccia per la Nato noi scrivono gli americani pensiamo che se l'Italia si affidasse a Huawei commetterebbe un grave errore che minerebbe la vostra sicurezza e quella della Nato e sentite cosa scrivono arrivano addirittura a dichiarare che verrebbero messi in discussione i rapporti di intelligence tra i due paesi qualora l'Italia dovesse scegliere in autonomia a quale rete affidarsi verrebbero addirittura messi in discussione i rapporti di intelligence è un motivo per dire se poi accade qualcosa in Italia noi non ne siamo responsabili una vera e propria minaccia per il nostro paese quindi il conte 2 cade poi come sappiamo scoppia la pandemia arriverà il governo Draghi senza passare per le urne poi finalmente si tornerà a votare e nasce il governo Meloni ripeto questa volta tanto di cappello perché è un governo che nasce passando per le urne anche se poi come vedremo tradirà molti dei valori dei principi e delle promesse fatte in campagna elettorale ma gli americani prevedendo l'elezione di Giorgia Meloni come premier la riescono a cooptare prima e la fanno entrare nell'Aspen Institute una dei più potenti think tank filo statunitensi dove vengono studiate le strategie per gli interessi americani infatti che cosa accade la Meloni va al governo e pone fine alla via della seta nasce in pratica quel governo transatlantico con un ruolo importante per Giorgetti proprio quello che io avevo annunciato nel 2019 nella mia inchiesta 31 coincidenze sul coronavirus e sulla nuova guerra fredda USA-Cina quello che volevano gli Stati Uniti per fare una inversione di rotta per mettere a posto tutti quei dossier che minavano gli interessi statunitensi infatti lo ripetiamo la via della seta finisce con il governo Meloni e cosa accade con il 5G lo vediamo in questa immagine clamorosa i gioielli di Tim vengono venduti per 22 miliardi a un fondo americano KKR proprio dopo che sono stati alzati i limiti del 5G è importante ribadire che a capo di questo fondo c'è un ex direttore della CIA questo è veramente qualcosa di clamoroso abbiamo affidato i nostri dati la nostra rete fissa a un ex direttore della CIA leggiamo cosa scriveva Dago Spia Washington ha ordinato l'operazione per la rete Tim Biden nell'incontro di luglio con la Meloni è stato chiaro il fondo statunitense in questo modo diventa il tutore degli interessi della Casa Bianca in Italia e quali sono questi interessi perché la Meloni ha portato subito avanti questa operazione perché questa operazione che serve alla sopravvivenza del suo governo cedere la rete ad una società USA lo leggiamo nell'articolo significa assicurarsi la benevolezza della Casa Bianca quindi tutto quello che noi pensiamo sia frutto di una scelta indipendente e sovrana del governo italiano in realtà è stata oggetto di una lunga preparazione è stata una scelta etero diretta non nell'esclusivo interesse italiano ma per imposizione dei nostri padroni degli Stati Uniti questi che vedete in sovraimpressione sono i risultati del sondaggio della settimana scorsa e ancora una volta vince la pillola rossa la pillola della consapevolezza l'unica capace di mostrarvi quanto è profonda la tana del bianconiglio lanciamo ora il sondaggio di questa settimana secondo voi la scelta della Meloni di chiudere con la via della Seta scelta legittima o meno non entriamo nel merito del provvedimento ma è stata una scelta autonoma e indipendente o è stata una scelta imposta ed etero diretta dagli Stati Uniti d'America pillola azzurra è stata una scelta autonoma e indipendente pillola rossa è stata una imposizione degli Stati Uniti ci vediamo la settimana prossima azzurra Grazie a tutti.